Il Corso del Coro Piemodeste è una via storica di Ferrara, una tra le più importanti della città, essendo anche la via principale della Dizio Nerculea. I monumenti che la caratterizzano sono Palazzo Diamanti e Castello Estense. Il Palazzo Diamanti fu progettato da Viaggio Rossetti nel 1492. Viene chiamato così per una leggenda che narra del fatto che Ercole Piemodeste avesse nascosto un diamante in una delle punte che caratterizzano il palazzo. Castello Estense, invece, sorse nel 1385, commissionato all'architetto Bartolino da Novara. Si trova al centro della città ed è uno dei monumenti più importanti di Ferrara. Grazie.